Prego il Presidente Fizzo. Si tratta infatti di un momento storico. Durante la nostra presidenza del Consiglio, infatti, abbiamo lavorato e ora giungiamo alla firma del primo accordo tra le tre istituzioni, il Consiglio, Commissione e Parlamento sulle principali priorità legislative dell'Unione Europea per il 2017. Davvero, non c'è bisogno della presenza degli eurodeputati in questo Parlamento, però devo dire che sarebbe stato opportuno vederli qui in questa sede, in questo momento, anche se personalmente non ho bisogno della loro presidenza. La dichiarazione è congiunta sulle priorità legislative, se ora a facoltà il Presidente della Commissione Juncker. Signor Presidente, caro Robert, questo è un momento importante, pertanto non riesco a capire la mancanza degli eurodeputati in plenaria.